Il corno pronto per entrare, mossa balida, partenza molto forte del Montone, del Nicchio, del Drago, del Locai andiamo verso il primo San Martino con Montone sempre in prima posizione, seguito dal Nicchio l'ingresso molto forte del Nicchio, Trecciolino sta spingendo il proprio cavallo, primo casato con Nicchio all'esterno Montone che sta controllando la posizione del Nicchio, il Locai, il Leocorno, il Drago e le altri vediamo questo secondo ingresso al San Martino sempre con il Montone che fa l'andatura di testa il Nicchio che fa scorrere il proprio Barbero, Tabacco sta scorrendo molto bene mentre c'è anche le retrovie dei tempi di galoppo interessanti ed ecco che il Nicchio sempre in seconda posizione Montone, Nicchio, andiamo all'ultimo San Martino con la Lupa che sta provando forte infatti sta scorrendo verso la curva mentre Montone inizia a doppiare la chiocciola un ingresso molto forte della Lupa, Lupa che sta dimostrando forti qualità di galoppo il cavallo della Lupa ed ecco il rullo che annuncia ed è il Nicchio che prende la posizione e il Nicchio vince la terza prova, la seconda posizione per il Montone e le altre a seguire una bella prova, una bella prova